Questa è una mossa molto intelligente, furbo! Non credere, il padre mi ha sorriso, però salutavo il figlio Minchia, con questo zio non ci pari, non ci pari la domenica, questo fai a pugni Togli un attimino gli altri e fai a pugni con questo Ma ne metto uno e uno, cioè alla fine Con uno pari, con l'altro pugni Lui dovete sapere che è un po' sordo, quindi ora non sente niente di quello che dico Sentite, Siso, 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 Siso Sentite, è sordo, ma è sordo davvero? Ehi, cos'hai capito di quello che ho detto? Eh? No, mi fai morire Ancora non hai capito Aspetta che ora devo vedere se si accende la moto Ti prego, parti Oh, i bambini che giocano No, non ne rubiamo oggi, sono in ritardo Io la odio, la mia moto Willi, mi serve una mano Non parte Dio, questa moto è di merda La devo accendere a spinta Sai cosa significa portarla lì sopra? Vieni, Gavri Oh, raga, in tre è più facile Vai, spingi Vai, vai, vai Che moto di merda Che cazzo l'hai comprato? Dai, i cinesi, zio Si vede, è un'onda Va bene, fermo Fa che signore benedetto Vai, vai, spingi, spingi, spingi Solo resta di qua Scusi Per Borzo li devo andare di qua Più Di qua, vero Grazie Ma che dici? Come arrivo io da qua a Borzo? Ma porca di una Oh, Matteo Dimmi Di fare? Di fare? Di fare cosa? Che stai facendo? Quase da grandi Ti disturbo? Sempre Volevo parlarci di una cosa Dimmi Posso parlarti? No Però oramai hai iniziato a farlo Tu conosci Temu? No Temu una piattaforma di e-commerce Stai zitto! Temu una piattaforma di e-commerce Nata nel 2022 All'interno della quale Puoi trovare ogni tipo di prodotto Tipo? Tipo Prodotti di ogni genere Tipo Quindi ad esempio Un caricatore da infilare Tu accendi sigari Per avere sempre Il tuo bellissimo telefono caricato E per rimanere sempre in tema auto Qua abbiamo una videocamera Che possiamo andare a montare All'interno del nostro abitacolo Per rimanere sempre e sempre Coperti In caso di sinistri o incidenti Addirittura registra il 1080p a carri Minchia! Sempre per rimanere in tema auto Abbiamo il Ripara gomme Sai come funziona? No Allora Step 1 Bucare una gomma Step 2 Vi basterà bucare ulteriormente Con questo aggeggino Step 3 Inserire uno di questi vermicelli All'interno di quest'altro aggeggino Col buco Con molta delicatezza Andiamo a inserire il vermicello Ovviamente molto a grandi linee Poi abbiamo prodotti Di elettronica generale Come ad esempio Questo caricatore wireless Dove possiamo mettere Cuffie Telefono Orologio Lampade per la tua casa Bellissimo Come queste bellissime Lampade colorate Che proviamo ad accendere Wow Ma sono bellissime Prodotti come questo Comodissimo Mini Aspira avvolgere per auto E vi posso assicurare Che aspira Fortissimo Sì Vabbè Fortissimo Dai Te l'avevo detto Che aspirava E una cosa super vantaggiosa Di Temu È che puoi trovare Tutti questi prodotti A prezzi bassissimi Con spedizioni Anche parecchio rapide E quando dico Ogni tipo di prodotto Intendo proprio Ogni tipo di prodotto Cioè Guardate che bello È sto modellino Quindi per ricapitolare Su Temu Potete trovare Ogni tipo di cosa Come ho detto prima Dalla macchina Ai prodotti per la casa Ai prodotti per uscire Col vostro cane A modellini Per appassionati E già su Temu Tutto quello che trovate Ha un costo relativamente basso Ma grazie a me E grazie a questo codice A questo link Che trovate in descrizione Potete avere accesso A un buono sconto Di 100 euro E un 90% di sconto Su una lista Di prodotti Già selezionati Se siete nuovi Sulla piattaforma Quindi sì Se steste pensando Di comprare qualche prodotto E vi potesse venire Comodo qualcosa Ma non vorreste spendere tanto Temu Fa il caso vostro Troverete tutto E a prezzi super vantaggiosi Quindi ricordatevi Il link in descrizione E questo codice sconto Che potrete usare In ogni sezione di Temu Sempre se nuovi clienti Per avere diritto A 100 euro Di buono sconto E il 90% di sconto Su dei prodotti Già selezionati Ah che bello È tornato al caldo Ah Ora possiamo prendere multe E cuocere sotto il sole Sì Ciao Che figo Che sono in questo riflesso Statemi staccare un po' Uddi Un momento di vado a tornare Che è rimasto a piedi Da quanto è che è parcheggiata qua Da quanto è che è parcheggiata qua Ce l'ha il colore Di una macchina ferma Da un po' Da mangiare Meno male Ma la macchina Tu non l'hai ancora vista Quando vuoi Quando piove No 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 Sì 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 Non ti becca Gino ma ti becca la voce L'abbiamo fatta Devo mettermi gli occhiali da sole Vabbè i documenti sono qua però Ovviamente sei un amico E no infatti è per quello che dico Tanto ci è venuta a controllare oggi la guardia di finanzi Tutto il controllo Tutto fuori regola No siamo i più in regola del posto Vabbè però Poi per il resto tutto facile Qualunque problema c'è il menù non mi chiami Perfetto Io arriverò dopo un'ora di solito Wilson Lo sento Lo sento Wilson Giustamente Comunque me la ricordavo diversa Milano Ma non è Milano questa Milano marittima ma ce l'ha il clacson Non vero perché io Ce l'ha Cosa c'è L'orizzonte è una di quelle cose che è piatta e va osservata per intero Aspetta da qua si vede meglio l'orizzonte Oh c'è la linea dell'iphone che segna perfettamente la linea dell'orizzonte col mare Blot twist e la terra è piatta Ma questo con le pizze? Ma che grande Questo è quando non vuoi pagare la consegna Lo sai che stiamo per essere fermati? Mi scommetto quello che vuoi Mi scommetto quello che vuoi E invece no Uuuuh Ce ne avevo dietro con le luci Ciao 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 Ciao